Nel municipio di Catanzaro è stata sottoscritta la convenzione tra il sindaco Sergio Abramo ed il direttore dell'istituto di studi musicali Tchaikovski attraverso cui si avvia il rapporto di collaborazione che sancisce il ritorno del conservatorio a Catanzaro, unica città capologo di regione in Italia a non averlo. I corsi, è stato spiegato in conferenza stampa, partiranno il 12 di novembre. Abramo e Darlia ai nostri microfoni. Ci siamo perché il Tchaikovski ha deciso di vestire nella città capoluogo, in futuro, siccome è riconosciuto da parte del ministero, in futuro quindi vuole trasferire addirittura la sede qui a Catanzaro, avendo già circa 900 iscritti è una bella realtà e potrebbe crescere ancora di più qui nel capoluogo di regione. Ma soprattutto abbiamo intenzione, perché le abbiamo già utilizzate, tra virgolette, nel senso positivo per le opere liriche, ma potremmo costituire l'orchestra stabile. Credo che sia una cosa importante per la città capoluogo, che è l'unica che non avere un conservatorio. Tanti capoluoghi nelle altre regioni li hanno avuti, le leggi sospesse dal 1994, non si possono avere più queste autorizzazioni, però il Tchaikovski, essendo comunque riconosciuto, per noi è una realtà. Quindi non dipenderemo più da Vibu, ma avremo il nostro conservatorio finalmente nella città capoluogo. Questo per dare anche una risposta ai tanti ragazzi che amano il mondo della musica e che vogliono sicuramente partecipare anche eventualmente a questa produzione importante che sta facendo il Teatro Politeama. Già Vito su questo e Aldo Costa sono stati molto aperti. Abbiamo per il momento aspettato nei piani degli uffici del Politeama e questo conservatorio, ma sicuramente daremo una sede più dignitosa nel momento in cui decideranno definitivamente di spostare la sede principale. Direttore, questa intesa, questo accordo colma un vuoto importante nel capoluogo di regione, che insomma non aveva ancora il suo conservatorio. Sì, Catanzaro è l'unico capoluogo di regione a non essere fornito di corsi AFAM, dell'alta formazione artistica e musicale, quindi di conservatorio. In questo senso credo che questa operazione sia molto intelligente per poter colmare una grave lacuna che aveva la Calabria. Il nostro partirà all'inizio dell'anno perché vi annunciamo che il 12 novembre i corsi inizieranno, saranno puntuali. Abbiamo già 80 studenti iscritti ed immatricolati, le lezioni si svolgeranno per quest'anno accademico al Teatro Politeama e ci teniamo ad essere presenti in città in maniera seria e soddisfacente per l'utenza della musica classica.